Dunque tra un po' potrebbe essere il momento giusto per comprare casa. Se stai pensando di fare un investimento immobiliare o se stai pensando di comprare la tua prima casa potrebbe essere per te conveniente aspettare un pochino e per un pochino intendo circa un annetto dalla data di questo video che è fine 2022, più o meno un annetto perché potreste trovare le condizioni migliori in assoluto per acquistare casa. Perché? Facciamo una breve analisi del mercato qui dal bosco. Questa sì è una di quelle puntate in cui parliamo di economia mentre passeggio nel bosco però è bello così. A me piace molto raccontarvi queste cose anche quando vado a farmi nei giretti nel bosco tra una pausa e l'altra mentre scrivo qualche capitolo dei miei nuovi libri. Allora, qua c'è una bella luce. Allora, cosa volevo dirvi? Potrebbe essere il momento tra un annetto circa, quindi parliamo di fine 2023, per acquistare casa perché le condizioni del mercato attuali stanno spingendo ad un ribasso dei prezzi degli immobili. Qual è la causa? Ci sono più cause e adesso cercherò di analizzarle in questo video per cercare di convincervi di questa cosa. Siamo in un momento in cui le banche centrali hanno innalzato i tassi di interesse. Cosa vuol dire? Vuol dire che le banche stesse per prendere denaro dalle banche centrali, le piccole banche locali, per prendere in prestito denaro dalle banche centrali, gli costa di più, gli costa di più prendere in prestito questo denaro e quindi a loro volta quando erogano dei mutui alle persone o il fido aperto in banca per i libri professionisti devono applicare su questi prestiti dei tassi più elevati. Quindi, lo avete visto, i mutui sono aumentati. L'anno scorso, diciamo, fino a metà 2020 i mutui erano intorno allo 0,5-0,8%, quindi veramente cifre ridicole, percentuali ridicole. Adesso i mutui sono saliti e sono superiori al 3%. Quindi prendere in prestito adesso denaro è costoso. Cosa comporta questo? Cioè, a cosa porta questa scelta delle banche centrali che stanno cercando di raffreddare l'economia e quindi far scendere l'inflazione attraverso l'aumento dei tassi di interesse rallentando proprio il commercio, l'economia, eccetera, comporta il fatto che per le persone è molto più difficile contrarre un mutuo per vendere casa, scusate, per acquistare casa. Quindi, quando questo accade, storicamente, sul mercato rimangono più abitazioni in vendute del normale. Infatti, nei prossimi mesi, quello che vedrete sarà molto probabilmente il fallimento di diverse agenzie immobiliari perché sono sempre tantissime le agenzie immobiliari quando le cose vanno bene, ma poi quando le case incominciano a non vendersi più iniziano a fallire e quindi si vedrà il fallimento di diverse agenzie immobiliari e si vedranno quei libretti che ogni tanto compaiono per le vie delle città, che tengono trasferite tutte le case che sono in vendita o online, si vedrà un aumento degli immobili disponibili. Perché semplicemente le persone, non potendo accedere più facilmente come prima ad un mutuo, si troveranno a non riuscire a comprare casa e quindi chi invece vuole vendere casa e magari la vuole vendere perché ha dei problemi economici e quindi deve liberarsi di un immobile che ha sempre tenuto lì e che a questo punto non può più tenere fermo e quindi ha bisogno di liquidità, riuscirà a venderlo con difficoltà. Benissimo. Cosa succede quando sul mercato si verifica questo? Cioè quando sul mercato ci sono tantissimi immobili disponibili? Succede che il prezzo scende. Lentamente il prezzo scende. Le agenzie immobiliari e le persone stesse poi si troveranno con tanti immobili invenduti, come dicevo, e quindi poi a un certo punto dovranno svenderli. Per svenderli sul mercato immobiliare non si intende chiaramente la metà del prezzo, ok? Ma si intende un 5, forse un 10% in meno. Tenete presente che il mercato immobiliare, come vi ho sempre spiegato, è un mercato di nicchia, locale, nel senso che ci sono luoghi in Italia dove il mercato si svaluta più velocemente e di più che altri luoghi. Ad esempio le città d'arte, le città universitarie, diciamo luoghi turistici sono tipicamente zone dove il mercato immobiliare non cala di tantissimo. In altre zone invece nelle periferie, in città meno prestigiose, in zone meno prestigiose in generale, il mercato immobiliare invece riesce a scendere anche di percentuali importanti. Nell'ultima crisi del mercato immobiliare si sono viste delle discese dei cari di prezzo anche del 13-14%, che è una percentuale interessante su magari un immobile che vale 300.000 euro, perché se vi fate due conti, risparmiate due bei soldini, il che poi si traduce appunto in un mutuo che magari riuscite a chiudere, se avete bisogno di un mutuo, di un prestito, più rapidamente. Qual è però il problema? Il problema è che esattamente come quelle persone che devono vendere gli immobili o comprare casa non ce la fanno, perché in questo momento, perché il mutuo che hanno è magari pure aumentato o che comunque dovrebbero contrarre se non lo avessero per comprare un'altra casa, in questo particolare periodo si ritrovano ad avere una rata che è molto elevata e anche tu che vuoi comprare casa sfruttando questo momento del mercato immobiliare particolarmente favorevole, che non è adesso, lo ripeto, ma sarà a fine 2023, avrai lo stesso problema, cioè anche tu ti ritroverai a dire ok, va benissimo che io in questo particolare momento sfrutto il fatto che l'immobiliare sia sceso per comprarmi casa e risparmiare, ma anch'io però ho il problema di tutti gli altri, cioè che non posso comprare casa perché il mutuo è troppo costoso, ok, mi fanno un mutuo al 3 al 4%, per me la rata è troppo elevata non ce la faccio. Ecco, qui arriva il giusto compromesso, cioè capire che questo è il momento nel quale gli immobili iniziano a calare di prezzo, quindi adesso fine 2022 gli immobili iniziano a calare di prezzo. Considerate che i tempi di ventita degli immobili sono dai 6 mesi all'anno, quindi le prime forti ripercussioni sul mercato immobiliare si vedranno a metà 2023 e quindi presumibilmente a fine 2023 incomincieremo ad avere un calo di prezzi significativo perché ci saranno tanti immobili invenduti e quindi si potrà contrattare molto sul prezzo d'acquisto. Perché? Perché gli affari nel mondo dell'immobiliare, ve l'ho spiegato mille volte, si fanno quando si compra, non quando si vende. quindi qual è il momento esatto che dovete attendere? Qual è la congiunzione esatta che dovete attendere per comprare immobili? È quando poi il mercato ripartirà, cioè quando le banche centrali smetteranno di innalzare i tassi di interesse e quindi la vostra banca vi potrà erogare un mutuo ad un prezzo più contenuto. Quindi non aspettate che i mutui tornino ai prezzi del 2020 che erano al 0,5-0,8 perché a quel punto anche i prezzi degli immobili saranno tornati a salire visto che ci sarà poi una grossa mobilitazione all'acquisto ma quando i mutui saranno poi di nuovo scesi saranno tornati magari intorno all'1-1,5% probabilmente quella sarà l'occasione migliore il momento migliore per poter comprare un immobile perché avrà il mutuo ad una condizione che comunque è abbastanza favorevole. È il prezzo dell'immobile che è calato per via che veniamo da un periodo nel quale gli immobili non vengono venduti e quindi i prezzi sono scesi. Capire esattamente quando si verificherà questa congiunzione cioè mutui di nuovo accessibili e immobili scesi di un tot saperlo adesso prevederlo adesso è molto difficile. Si può ed è praticamente impossibile sarebbe come cercare di prendere il massimo o il minimo azzeccare il massimo o il minimo di un mercato finanziario o di un'azione in particolare non lo puoi fare è impossibile anche perché anche qui parliamo di un mercato molto anticipatorio sugli acquisti rispetto a quello che poi è l'andamento reale dell'economia ma questo è un altro concetto che vi spiegherò in un altro video quindi sperare di prendere la condizione migliore in assoluto non si può fare però si può fare questo ragionamento cioè dire certamente i prezzi per come sta andando le politiche delle banche centrali europee troveranno una flessione importante più o meno verso la metà fine 2023 quindi da lì in poi si può incominciare a ragionare sull'acquisto di un immobile ad un prezzo molto contenuto poi si tiene monitorato per esempio su siti come Trova Prezzi se non sbaglio o Mutui Online forse Trova Prezzi no però Mutui Online insomma ci sono vari siti si tiene monitorato l'andamento dei Mutui si possono fare delle simulazioni e quando i tassi di interesse saranno tornati a scendere saranno intorno ad un 1-1,5% probabilmente ci saranno le condizioni migliori per acquistare immobili a prezzo scontato con un Mutuo che non avrà delle condizioni invece proibitive e a quel punto poi si potrà anche tenere in considerazione di fare un tasso fisso che ti dà poi una certezza rispetto a quello variabile che invece come vedete in questo momento condanna le persone a dover pagare delle cifre esorbitanti e quindi poi magari perdere addirittura la casa questo è quello che si può prevedere la massima previsione che possiamo fare in questo momento con gli strumenti che abbiamo sappiamo che le banche centrali hanno già deciso in questo momento siamo a fine 2022 di rallentare un po' l'aumento dei tassi di interesse e quindi la tira ci dice appunto che metà 2023 fino a 2023 potrebbe essere il momento migliore per acquistare un immobile quindi che voi abbiate bisogno di un Mutuo o meno è conveniente per voi aspettare aspettare ancora un anno almeno per avere accessi ad un accesso diciamo ad una rata del Mutuo più bassa e pagare l'immobile la cifra più contenuta che potete di un'immobile